Pietro, in verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Aiutami Gesù, anche se non lo merito. Aiutami a capire che cosa posso fare per i miei fratelli. Gettate le reti sul lato destro! Ti sei fidato di me, allora mi ami. Sai che ti amo più della mia vita. Allora pasce le mie pecorelle. Guidale tu, Pietro. San Pietro, prima parte, domenica alle 20.55.